Buongiorno, io sarò brevissima, sarò brevissima per una serie di motivi, perché ritengo che quello che ci auspichiamo oggi sia più che altro, più che l'esposizione da parte nostra di quelli che erano i nostri programmi, di quelli che sono tutt'oggi i nostri programmi, più che altro un dibattito aperto con voi cittadini, che ringrazio per essere intervenuti, sebbene in uno che seguo, ma non mi aspettavo appunto diversamente. Vi ringrazio veramente di cuore, anche perché come ho detto alla collega, effettivamente devo dire che c'è una scarsissima partecipazione della cittadinanza, quella che è l'attività politica del nostro paese, quindi non ritengo sia il nostro demerito, non credo sia legato a un colore politico o altro, ma semplicemente a uno scarso interesse da parte dei cittadini di quello che è anche nel nostro paese. In merito a questo devo dire, riprendendo le parole esposte prima dalla collega Daoulos, quando appunto sostenuto che in Consiglio l'opposizione è una scarsa rilevanza, purtroppo mi trova completamente in disaccordo, in quanto in merito a questo, se dai mesi, come appena ricordato appunto la collega prima, poco anzi, in merito alle varie emozioni e interrogazioni che sono state fatte e non accolte, questo ritengo che abbia un valore molto relativo, perché ritengo che noi facciamo il nostro lavoro, lo stiamo facendo molto bene, molto bene di quello che può apparire, perché non sono i risultati effettivamente quelli che contano, cioè il nostro lavoro, il nostro impegno che abbiamo preso innanzitutto per vigilare, per controllare, sì anche controllare quello che fa la nostra amministrazione comunale e ritengo che lo stiamo facendo molto bene, noi abbiamo tutte le risposte in merito a quello che viene fatto e quello che non viene fatto e siamo qui per questo, cioè per dare delle risposte a voi, a voi cittadini che volete appunto interrogarci, interpellarci su quanto appunto succede insieme a quell'amministrazione. Io non sono dispiaciuta di queste feste, devo dire la verità, perché hanno secondo me un complice vantaggio, intanto perché comunque è gradevole da parte di tutti, voglio dire, il governo, cioè vedere che il paese in qualche modo regisce, si vive, si scherza, si sta bene, voglio dire, è una cosa questa positiva per tutti, indipendentemente maggioranza, miglioranza, comunque è una cosa che fa comunque bene, fa piacere bene, ma soprattutto ritengo che faccia bene psicologicamente, perché i cittadini hanno bisogno in questo momento in un certo modo di riprendersi, come riprendersi da lunghe malattie, perché credo di una maggiore serenità e questo per meglio comprendere effettivamente quello che sta accadendo, perché penso che ci sia un po' di confusione in giro, cioè i cittadini, dopo questo periodo piuttosto buio, non abbiano un'idea molto chiara su quanto effettivamente sta avvenendo, per cui questa ripresa è apparentemente anche di poco conci, invece potrebbe aiutare a capire, poi a vedere meglio, a essere più introspettivi che credo di quali siano effettivamente le problematiche del nostro paese e che ci sono, che sono tantissime, in parte le abbiamo esposte e in parte siamo qui per questo punto per esporle. Personalmente devo dire che sono forse un po' il pestino per fare effettivamente un bilancio di quello che, di quelli che sono i risultati di questa amministrazione in questo momento. Di sicuro, di certo, vi posso dire che con il lavoro da noi svolto, molte cose ne sono effettivamente poco chiare e anche mi dispiace dirlo, poco pulite, perché noi abbiamo chiesto in consiglio comunale, mi dispiace veramente che non ci sia questa scarsa partecipazione, perché poi ritengo che alla fine nessuno magari vada a vedere i consigli in televisione, per cui sarebbe bene effettivamente essere presenti e vedere quali sono le posizioni che noi facciamo in continuazione e da cui non abbiamo alcuna risposta. Poi magari il cittadino, voglio dire, neanche successivamente, come diceva appunto prima la collega, non legge i giornali, è veramente poco informato, questo mi dispiace veramente tanto. Ma noi, ripeto, abbiamo tante risposte e siamo io oggi, mi auguro che voi siete qui per questo, cioè per chiederci delucidazioni su quanto effettivamente stia accadendo. Dicevo prima, mi dispiace il fatto che siamo state istituite diverse commissioni insieme al Consiglio Comunale, istituzioni però, commissioni diciamo, molte delle quali, sebbene istituite, non sono state neanche mai convocate. Mi riferisco in particolare alla Commissione Bilancio, che è una commissione importantissima, fondamentale del nostro pricing, soprattutto in questo momento molto particolare, però istituita quasi, diciamo, all'inizio del... tra i primissimi consigli comunali, dopodiché successivamente mai più... ha convocato. Convocato. Convocato, sì, grazie. Inoltre, in particolare, voglio anche riferirmi alla Commissione Sanità, che finalmente dopo sei mesi e più di pressioni fatte anche dalle impellenze del nostro Paese, delle problematiche che in questo momento particolare stanno attravagliando il nostro ospedale, quindi, dicevo, dopo varie pressioni siamo riusciti finalmente a far istituire questa Commissione Sanità, che sta lavorando tantissimo, ma devo anche dirvi che non c'è alcuna partecipazione attiva, e mi dispiace sottolinearlo questo, da parte di alcun consigliere di maggioranza, che sebbene appunto nominato, però per motivi di salute non è presente, ai lavori di Commissione, Commissione che appunto sta lavorando tantissimo, e anche domani abbiamo un'altra convocazione importante in ospedale con tutti i dirigenti di secondo livello, e questo mi fa pensare come in effetti ci sia una scarsa preoccupazione e partecipazione per quelli che sono veramente i problemi del nostro Paese. Cioè, si sta dando un'importanza veramente relativa all'attività del nostro ospedale, ci siamo fatti anche portavoce dei problemi del risoccorso, abbiamo visto non solo la scarsa partecipazione dell'amministrazione, ma anche una scarsa partecipazione della cittadinanza. Purtroppo, devo dirlo, il Locre si è abituato a partecipare pochissimo all'attività politica, perché sembra quasi che tutto sia dovuto, cioè, come se noi stessimo qui per risolvere le problematiche, ma se ben ricordate, in campagna elettorale abbiamo auspicato tantissimo la partecipazione attiva, e non soltanto attraverso queste convocazioni che si rilorano che ne auguro, che saranno seguite da tantissime altre, in cui si possa appunto avere un dibattito chiaro, schietto, aperto per la cittadinanza, che sia appunto proficua da questo punto di vista. Noi vorremmo mantenere questo contatto positivo con i cittadini, perché, ripeto, come dissimo allora in campagna elettorale, riteniamo che il paese non si può sollevare se non ci sarà una partecipazione attiva, con sacrificio anche, da parte dei cittadini. Questo ritengo sia fondamentale e mi auguro che la partecipazione sarà sempre più corposa negli incontri a venire. Io adesso passo la parola agli altri miei colleghi, dopodiché mi piacerebbe che avessimo veramente un dibattito aperto, un confronto diretto e che vi facciate portavoce di qualunque perplessità, di qualunque necessità, di qualunque perché sta cambiata da fare. Grazie a tutti. Grazie e buon giorno a tutti. Un ringrazionato particolare al dottore Zaldino, che ancora una volta ci concede l'ospitalità per assolvere questo difficile compito di relazionarsi tra il mondo istituzionale, il mondo pubblico, il mondo politico, è quella che invece è la parte viva, la parte reale del paese, la parte su cui incontri per lunghi periodi, la solitudine, l'indifferenza dell'azione politica e dell'azione istituzionale. Un grazie anche a quanti oggi presenti, ma nei mesi passati sempre al nostro fianco, dal momento della presentazione della lista, alle varie convocazioni dell'azione del Consiglio Comunale, hanno sempre assecondato un lavoro di intesa, di miglioramento, di qualità rispetto all'offerta politica che il nostro gruppo consigliare effettua nell'essere istituzionale. Io capisco che oggi non era prevista né una tombolata né una sciata, quindi era più difficile proprio essere qui con noi. E questo è il segno della vostra attenzione, della vostra sensibilità. Non siamo, non vi abbiamo convocato per fare qualcosa di esilarante, di ludico, ma per prendere un po' coscienza reciprocamente di quelle che sono le difficoltà che questo paese, che questa gente, la nostra gente, che noi in questo tempo viviamo, e cercare di guardare, allargando l'orizzonte della visuale, a ciò che è successo nei paesi vicini, in 13 paesi della provincia di Reggio Glambria, nella città capoluogo, perché tutto quello che si agita e succede nelle comunità vicine, non è molto lontano da quello che potrebbe verificarsi e succedere a loro. E non è stata una convocazione di un gruppo di iattatori per portare malasorte alla città e per dire, guardate, nonostante gli sforzi, i sacrifici, i sudori di Calaprese e compagni, noi siamo qui a dirvi che oltre il 6 di gennaio si prefigurano scenari non certo soddisfacenti, non certo riscaldanti, non certo tonificanti, per chi vive di precarietà, per chi vive di difficoltà, per chi rincorre gli uffici, gli esercizi commerciali, le banche, per poter frenare questa famelica esposizione che giunge da una condizione economica internazionale che si è fatta sulla nostra città, perché la nostra città fa parte dell'Italia, fa parte della Calampria, fa parte di una Calampria gestita, amministrata da un signore che si chiama Giuseppe Scopelliti e quindi noi non possiamo essere disattenti. E come per magia tutto quello che è successo a Reggio Calampria negli anni loro, nella città da bere, venivano e scorrazzavano in città gallinelle, galli, soggetti rampanti, per il suo piacere di vederli, e poi costavano nelle casse della città somme indescribili. Tutto quello che è stato l'epilogo dell'omicidio Fallana, a febbraio ci sarà la sentenza di primo grado, non può lasciarci distratti, non può imporre una disattenzione a chi da trent'anni, da cinquanta, da un anno, da sempre, fa politica a preutito in questa città. Perché non siamo stati per mezzo secolo a venire a Genos un ammasso di imbecilie utili alle soluzioni di potenti che venivano a saccheggiare questa città con un consenso elettorale, o abbiamo qualcosa di più profondo che ci lega al nostro povero? E' la preoccupazione di una comune sorte, di un comune sentire, che deve vedere nel gruppo consigliare la prima vanguardia difensiva, ma è nelle retrovie che si raggiunge l'obiettivo. Non è solo quando ci convocano una volta ogni tre mesi in Consiglio Comunale, che è una parte della città, perché questa è una parte della città, si sente rappresentata, si sente protagonista di battaglie e di scelte che hanno un forte sapore sociale perché è legato al fenomeno di solidarietà, ma è nelle retrovie, quindi non nella scena madre, ma nella retroscena così ricco di retro gusto che non ha solo il sapore scandalistico, ha il sapore purtroppo nel 2013 di forte preoccupazione. Io vi leggo qualche passo di qualcosa che è stato stilato non nel 2000 a.C., ma a maggio scorso. E' una parte del programma dell'amministrazione comunale, in due o tre flash salienti, che potrebbero in qualche modo di accendere la preoccupazione perché la speranza è lì. Ma la preoccupazione spesso viene allontanata a colpi di gomito e a colpi di insulto da chi pretende che ci sia solo la speranza e senza preoccupazione. Nella premessa, tutti per l'Ocli intende affrontare da subito nei primi sei mesi di governo le emergenze della quotidianità, quali la soluzione ai problemi dei rifiuti, il sanamento delle finanze, la viabilità, la pubblica illuminazione, il verde pubblico, il territorio urbano, la qualificazione delle esatte allocazioni del risorso umane nelle aree strategiche dell'apparato burocratico, combattivano l'impegno alla rapida fluibilità delle opere pubbliche da troppo tempo cantierizzate e mai ottimate il Palazzo Cultura e l'autorium comunale. Quindi c'è questa premessa di fondo, quest'ansia che animava i nostri avversari che dice dinnanzi allo scempio provocato dalla gestione crea, dinnanzi alle continue lamentere che hanno poi determinato lo scendimento del Consiglio comunale anticipato dell'amministrazione Lombardo, dice siamo arrivati noi, i supereroi, allora dimostriamo noi che c'era prima della crea un gruppo di disadattati che non riuscivano a dire sì a qualcuno, hanno sempre detto no e lo dicevano no non a costo zero, ma con la speranza di ridurre i costi e migliorare la qualità dei servizi. Quello che è difettato in quest'ultimo anno, ma diciamo più largamente negli ultimi 18 mesi, è stato il rapporto di comunicazione tra chi andava ad assumere ruoli di responsabilità con responsabilità della gente che doveva assecondare, partecipare a quel modo di rinascita morale, prima ancora che politica e sociale, di questa città. Perché mai come oggi è attuale la questione morale nell'azione dell'abilità pubblica. Lo disse 30 anni fa Berlinguer, è inutile che io scimmiotti, come da dire a chi sa meglio e più di me, cosa significa fare politica semplificando parte della propria vita e mettere da servizio dei propri segni. Per quanto riguarda il settore amministrativo, intercattico il nostro scopo principio è quello di dare concreta attrazione a tutti gli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, in modo da stimolare l'iniziativa dei simboli rispetto alla presentazione di proposte di deliberazione dirette esclusivamente a promuovere interventi per la miglior tutela di crescita. Questo era un po' un refuso che si trascina e rimbalza da qualche programma in qua del bilancio partecipato. E' chiaro che c'è una discrasia tra ciò che intende l'attuale amministrazione, il bilancio partecipato e ciò che viene percepito dalla comunità. Il bilancio partecipato, per larga parte dei nostri attuali amministratori, è partecipare alla nazione economica. E come si partecipa? L'amministrazione da indicazioni inonda le case di richieste, richieste anche queste dettate sotto lo spirito di Arsenio Rupen perché si crea il danno alla BEF. Tanti di voi avranno ricevuto in questi giorni la richiesta di pagamento per la Tares, ma noterete che nessuno è giunto con l'eterno raccomandata perché questa dovrà servire a giustificare un eventuale mancato in caso delle somme o si tratta di meglio tutelare i furbi che pur avendone la disponibilità oggi dicono io non ho ricevuto nulla e non c'è prova. Qui non è un esercizio giuridico dell'onere della prova. Qui è l'evidenza che noi siamo allo sbanto. E passare dal danno alla BEF nelle prossime settimane il passo è breve perché voi sapete che si è dimessa la segretaria, la dottoressa Capri. I motivi, come al solito, non sono mai resi pubblici. Ufficialmente c'è un malessere in famiglia ma voi sapete chi ha fatto richiesta di ritornare al luogo? Il dottore Muscari Tomaiolo. Quindi significa che noi siamo un popolo per ora. Se c'è gente che ha commesso crimini sociali in danno di questa città più dei politici, uno tra questi è proprio il dottore Muscari Tomaiolo. E se all'ardire di comunicare un'ulteriore disponibilità per completare il sacrificio significa che il nostro cervello è resettato. Risulta indispensabile la predisposizione di un efficace controllo di gestione che consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli specchi. Questo stanno facendo. Stanno cercando di allestire una task force per cercare di capire come limitare il danno provocato dalla Crea, da Lombardo, da me e dal 1.200 venire a giorni nostri perché sono fortemente preoccupati. La task force però la staranno istituendo alle Caimani perché allora non c'è nessuna traccia di task force. E quello che vi ho detto prima, il fatto di aver ricevuto le richieste di pagamento a mezzo volantino domenicale, se la provo a provare che questi non hanno proprio alcun interesse, non hanno la cognizione di quello che fanno. Io, ma perché questo è il mio limite caratteriale, avanzo una perfidia. Loro sono ben consapevoli che da qui a febbraio ci sarà il botto e quindi giocano a rompere fino alla fine. Altrimenti non è umanamente pensabile, possibile, non dico politicamente o moralmente, che tutto quello che si agisce intorno e dentro le mura del palazzo possa avere una così visibile dissipazione, una così lucida azione sfrontata, tesa a rendere Locri uguali alle altre comunità che sono state dichiarate gestate per dissesto finanziario e catapultare il limite e il dramma di questa vicenda ai gruppi di opposizione. Questo è un gioco facilissimo. E loro trovano buona sponda perché sapete, pochi di voi hanno il tempo, la passione e non hanno in busta paga la voce scatenatevi sui Twitter, sui social network per parlare male delle opposizioni. Siete tutto sommato gente serena che vive in modo sereno a cui nessuno di noi impone di scrivere male dell'altro. questo è l'imbarbarimento della politica. leggetelo, se avete temi, prendete primo Malox, il programma scritto da Calabresi. leggetelo e offrirlo in visione a quanti vengono a sgomitarvi e dire che ora tutto è vero perché c'è Calabresi perché c'è il palagliaccio. Io non so il presidente Raffa quanti soldi abbia stanziato per garantire un sito fresco a Calabresi e compagni. Ma se le dico io le cifre poi qualche giornale mi accusa che sono visionari di Puffale poi di questo ve ne parlano. Se invece vi informate attraverso gli ordini normali circuiti che ognuno di voi può avere attivane se le cifre corrispondono a 25.000 euro per un luogo dove giustamente i bambini vanno a divertirsi ma qualcuno si fa pure male senza avere una copertura assicurativa. Se c'è stato un incremento di altri 8.000 euro allora vi viene da credere e da chiedere ma scusa Raffa ma tu anziché mandare 25.000 euro ma euro che vanno bene per le cose che ci siamo detti che ci siamo sempre non è che la sera con la cautela e con la tavola se andiamo a appiccicare il fuoco per far sciogliere il viaggio ma 25.000 euro quante strade del paese potevano essere migliorate, illuminate quanta assistenza domiciliare garantita alle famiglie bisognose perché questa è la diversità vera tra i due mondi tra i due modi di tendere la politica un centro sinistra che va ancora una volta rimodulato e un centro destra che vive di estetica di un consenso pubblicitario ludico non mi sorprenderebbe se venisse commissionato al call center il contatto per sapere quant'è il consenso che l'amministrazione oggi ha dopo il posizionamento del palagaggio perché di questo stiamo vivendo gli ultimi vent'anni in Italia li abbiamo consumati all'insegna delle apparizioni, delle fiction da Berlusconi che propagandava la novità dilatando l'imbroglio e le distanze l'imbroglio e le azioni politiche e le distanze tra la politica e la gente Bossi e il figlio che andavano a parlare male di Roma ladrona ed è sotto gli occhi di tutti quello che hanno fatto di Pietro che il partito come grande moralizzatore oggi è uno dei più attrezzati immobiliaristi italiani per arrivare fuori alla leggenda Scilipoti perché questo è uno dei grandi diffuso in tutto lo stivale lo scilipotismo noi siamo pronti a cambiare subito se qualcuno ci promette che a Natale ci scriverà la cartolina per il bambino Natale noi siamo pronti evidente ma questo non è un tono polemico nessuno richiama quello che potrebbe essere uno spirito di appartenenza dettato da una coerenza intima che poi caratterizza chi comunque conduce una vita da mediano per servire questo paese evidente la transumanza che si regissa all'interno del mio partito l'anno scorso erano tutti con Gigi Perzani oggi sfilano tutti per Renzi questa è l'Italia questa è la Locride non ci può sorprendere più nulla e allora noi che cosa cerchiamo e cosa vogliamo intanto non penso che l'azione politica del gruppo impegno e trasparenza sia inutile soffre le nostre frustrazioni questo sì abbiamo difficoltà anche a parlare con i colleghi dell'opposizione perché per me sono loro oppositori al sistema democratico e abbiamo difficoltà anche più a parlare con i dipendenti comunali stiamo vivendo un periodo oltre che di solito anche di paura perché c'è la verifica in presa diretta che cosa volevamo lì? l'avete verificato? era un mito di carte questo è questo è e noi non possiamo rimanere soli guardavamo che il cavo portava le carte ma che pensate? che il giorno noi andiamo a fare attività professionali tutte 5 10, 15 quando siamo lavorani e poi prepariamo un fascicolo di carte da portare in giro così c'è vero purtroppo la integrosa mortificante indifferenza della magistratura ordinaria in queste città che mette ancora di più in ginocchio le speranze di tanti giovani meno giovani che comunque ancora può dare qualcosa per un comune di sentire per una causa più larga ma secondo voi è possibile in un paese normale che ci sia la premialità e quindi la nomina in un consiglio di amministrazione di importanza strategica per una città di un signore che non ha pagato le tasse di stato denunciato per furta aggravata e continuata per 60 mila euro e noi dobbiamo esprimere solidarietà alla magistratura ma che cavolo ci vengono a dire? non possiamo più addomesticare i nostri fremiti le nostre indignazioni continuando a sabotare quell'istinto di reazione che ormai non c'è più avete seguito pure le vicende del mercato le hanno portate sul lungomare avanti indietro il consiglio di litigio gli insulti in danno di un assessore comunale e le scuse immediate con atteggiamento giusto da parte del sindaco ma prima di arrivare alle scuse bisognava fare una verifica attenta di quello che succede perché in questo modo siamo tutti i soggetti a prendere pochi calci nel culo e se li prenderanno per andare da cavo perché poi cavolo è giustibile cioè qui siamo alla schizofrenia nell'indifferenza totale con la complicità di qualche organo di stampa non certo diciamo video che è sempre qui attento e presente delle ragazze devo dire che la cazzezza del sud sta migliorando oltre meno per la presenza ma ho letto la riviera sto dicendo a dire che soccorso ma anche io avevo bisogno di qualche scatto in più per guadagnare una giornata su la riviera o sugli occhi anni stampa per quanto io possa essere stravagante nella migliore leggezione c'è però di vero che questa città non è difesa e se il mio soccorso non viene rimosso è perché cinque pazzi ci siamo messi di traverso rispetto a una decisione già presa il tavolo massicci l'approvazione del bilancio regionale sanciscono che di fatto deve essere rimossa una delle quattro postazioni e se quattro postazioni sono una per provincia e nella provincia di Reggio Calabria ce ne sono due perché viene sfruttato l'aeroporto di Reggio Calabria ma secondo voi quale postazione verrà rimossa? e se vuoi ricordare mettiamo per scontato che questa nuova fondia ormai dilaga senza bride senza nessun controllo perché nessuno di tutti quelli che si sono indignati e che hanno garantito secondo me qualche favore a qualche giornalino domenicale perché non si ha sentito guarda qui c'è la prova scritta che il soccorso rimarrà a loro nessuno lo dice perché tutti sanno qual è la verità e io ho cercato di spingere proprio in preda ad un raptus e la mia follia ho detto va bene visto che rimane e ci vogliono 20 mila euro perché non raccogliamo anche con una colletta con una sorta di teletone istituzionale 20 mila euro per potenziare l'impianto di illuminazione così come diceva Andrea Cotella nessuno parla ma sapete perché nessuno parla? perché questa città non ha difese politiche questa città ha subito l'onta della indifferenza della sublimazia di alcuni casati politici perché gli stessi raggiungessero il benefit e protezione in danno dei tanti questo centrodestra locale e regionale è lo stesso di quello propagandato da un signore che diceva che in Italia va tutto bene perché i ristoranti sono pieni e i mezzi di trasporto sono altrettanto ricchi qualcuno oggi dice che l'opera va bene perché la piazza è piena c'è pure un centrosinistra che arranga che manifesta timidezza che non riesce a sciogliere alcuni dubbi cruciali di questo futuro non riesce a riscaldare i cuori della gente c'è una forte carenza di leader in questo partito e in questa regione e allora che cosa dico io ai miei amici del partito democratico che non hanno avuto premialità che credono davvero che attraverso un esercizio democratico di un'azione politica si possa garantire di più ai tanti e sottrarre a chi comunque ha confiscato aria di libertà e di progresso in questa regione partecipate alle iniziative del partito democratico iscrivete perché non ci sono più giustificazioni non possiamo più dire noi non ci scriviamo perché il partito è sotto il garage dell'Agana è finita quell'esperienza chi si vuole impegnare nel partito democratico si deve scrivere perché si scrive il partito democratico italiano non si scrive il partito democratico di casa l'Agana se non rivolgiamo questi ostacoli questi degredi se non si crea un respiro più largo dal punto di vista politico l'azione istituzionale sarà sempre depressa perché è rappresentata da questi sottoprodotti è poco male l'aver catapultato all'Assemblea Nazionale Teresa Gelestino che qua ringrazio e saluto perché questo è un elemento di straordinaria novità per la nostra città non ci sono più i soliti figuranti non c'è più la solita regia qualcosa sta cambiando e noi speriamo che non cambino peggio dal 6 gennaio in poi quando andremo in Consiglio Comunale per capire se le transazioni effettuate dovevano servire ad evitare qualche preoccupazione in più per amministratori che non avevano padato a curare gli interessi di questa città ma infatti cosa chiediamo noi? che venga evidenziata questa responsabilità non chiediamo che vengano messi al robo ed è chiaro che fin tanto esiste una classe dirigente di maggioranza o di opposizione mummificata dagli interessi prologere la disobbedienza io la vorrei regalare alle amiche e agli amici del gruppo di maggioranza perché essere disobbedienti giustamente come dice la Maraina significa avere rispetto e la propria dignità e forse noi per lungo tempo siamo riflettati in questo speriamo che il 2014 ci metta in condizione di capire che se io ricevo un torto come cittadino come politico come appartenente al centro inizio lo riceve tutta l'area di riferimento lo riceve tutta la collettività e se uno stessore viene colpito al calci viene colpito alla città se un'autovettura o un automezzo di un incendiato e l'autovettura e l'automezzo di tutti non bisogna più dire tutto apposto perché c'è il palazzetto del viaggio amici riflettete bene su queste cose sono dei segnali io non dico gli ultimi segnali Maria ha detto bene noi dobbiamo individuare la rotta indipendentemente se ci sono i marosi se il mare è calmo o si agita noi questo dovere lo avvertiamo le analisi fatte da Antonella Gozzi in materia di tutela delle aree sociali più tevoli delle donne in particolare sono il segnale che c'è una sensibilità e va all'invento diversamente avranno il sopravvetto sprechi arroganzi trivialità e alla fine della giornata chi ha la pancia piena guarda a ton disgusto chi rende la mano ancora grazie 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 la un po' di cose che sono state dette da loro, qualcuno in particolare mi ha rubato anche qualche battuta, quindi dovrò correre in medio a questo e cerco di andare subito al nocciolo della questione. Noi siamo qui perché siamo preoccupati, vogliamo verificare con voi quello che è lo stato dell'arte oggi, a sette mesi dalle elezioni, a sette mesi dall'inizio della nuova attività amministrativa. E' una cosa che salta agli occhi di tutti e il messaggio di tranquillità e di normalità che il sindaco e la sua giunta vogliono mandare nella città, dove se l'Ocri fosse l'unico posto, non dico nella zona, ma in tutta l'Italia dove le cose vanno bene, dove la situazione economica è sotto controllo, dove il disagio sociale è assente, dove i servizi sono efficienti, dove la qualità della vita è nella norma e dove perfino l'ordine pubblico è sotto controllo. Per tutte queste cose c'è la risposta tranquillizzante. Ignorando quello che succede in tutta l'Italia, anche nelle regioni e nei comuni più virtuosi, tradizionalmente più virtuosi, che sono quelli del centro nord, dove i servizi sono stati sempre eccellenti e anche oggi, da un po' di tempo in realtà si comincia ad avvertire qualche difficoltà. E un po' avrei fatto la battuta di Berlusconi quando alla fine del suo governo, subito prima che arrivasse il professore Monti, quindi quando eravamo proprio sul nord o del baratro, diceva che in Italia in realtà si stava bene, non capiva il motivo della preoccupazione perché i ristoranti erano pieni e gli aerei volavano anch'essi pieni verso le meta delle vacanze. In realtà, come noi abbiamo scritto nel volantino che avete visto all'ingresso, le passe comunali sono in continuo aumento, il monte dei debiti del comune è aumentato da giugno ad oggi, molti palazzi comunali, il tribunale, il mercato coperto, Palazzo Agnieddu e alcune scuole sono già o saranno messi all'asta, in vendita, la situazione dei dipendenti è fuori controllo perché, come sapete, dal 1 gennaio dovrebbero andare in pensione una ventina di dipendenti, ma ad oggi non si sa se è così, cosa succederà all'apparato burocratico e amministrativo quando verrà decapitato di fatto nelle parti più alte della piramide e c'è una serie di atti amministrativi e diciamo in genere l'azione amministrativa della maggioranza che è portata avanti in maniera contraddittoria. Ora, questa attività amministrativa dovrebbe essere analizzata sotto un duplice profilo. Da una parte la legittimità degli atti e dall'altra la coerenza delle scelte volitive. Per quanto riguarda la legittimità degli atti, noi abbiamo contestato diversi, tantissimi atti amministrativi che sono stati posti in essere e li abbiamo denunciati alle autorità di controllo, alla Prefettura, alla Corte dei Conti, con atti ufficiali, con documenti che sono stati depositati in Consiglio Comunale e inviati a queste autorità e grazie anche al concorso della stampa che io ringrazio, sono stati diffusi a molti cittadini. Anche se, raccolgo qui la preoccupazione di molti, la scarsa partecipazione all'attività politica in genere, non qui perché, ripeto, io sono soddisfatto di queste presenze, dicevo la scarsa partecipazione dei cittadini rende tutto più difficile, quindi queste nostre segnalazioni non vengono colte per come dovrebbero, ma non perché le facciamo noi, in genere perché per la nota di sanfezione verso la politica, insomma, cose che ci siamo sempre detti e che ripetiamo. A cosa mi riferisco quando parlo di illegittimità di atti o comunque poca trasparenza degli stessi? Mi riferisco per esempio agli incarichi di consulenza esterna che nascondono le proprie assunzioni in violazione di ogni regola, mi riferisco a quella ingentissima mole di debiti fuori bilancio di diversi milioni di Euro che sono accantonati, sono messi in un angolo, ma che incommono su di noi e non sono mai stati valutati dal Consiglio Comunale come invece doveva essere fatto. E per concludere, li tralascio tutti, quello che è uno degli atti fondamentali del Comune, il bilancio di previsione. Sapete che il bilancio di previsione per un ente è l'atto che dovrebbe poi organizzare tutta la vita amministrativa. Ebbene, io prendo le carte perché sapete, ci vedo sempre dietro. Il bilancio di previsione, secondo noi, contiene un sacco di dati non veritieri. Sono previste a fronte di uscite certe, entrate che certe non lo sono di sicuro. E il penicito solo una. Avete tutti seduito bene o male, perché siamo tutti interessati alla vicenda dell'Imo. Anche qui la figuraccia del governo. Togliamo l'Imo, la lasciamo, non si pagherà, sospendiamo il pagamento della prima rata, l'appogliamo definitivamente. Insomma, c'è stata questa grande confusione. Prima che in questo dibattito nascesse, il Comune di Lofi aveva predisposto il bilancio di previsione per il 2013. Eravamo a settembre e aveva previsto di incassare per l'Imo una somma di gran lunga superiore a quella incassata nell'anno precedente per la tassa analoga. Aveva previsto di incassare 2 milioni e 600 mila euro circa, se non sbaglio. Ebbene, subito dopo l'approvazione da parte dell'aggiunta del bilancio di previsione, il governo nazionale con un proprio decreto, il Parlamento con la conversione di questo decreto, stabilisce che l'Imo per la prima casa non va a pagare. E quindi, automaticamente, i soldi che i comuni avevano pensato di incassare non vengono incassati. Il Comune interviene con una minima somma a compensazione di queste cifre nell'ordine di un paio di centinaia di migliaia di euro. Noi abbiamo chiesto immediatamente al Consiglio, ma all'aggiunta, di rivedere quel bilancio di previsione per adottare questo correttivo che non era loro dovuto, ma era dovuto appunto al sovraggiungere di una norma nuova. L'aggiunta comunale ci risponde picche, naturalmente. E il bilancio di previsione arriva al Consiglio Comunale. Cosa dice? Perché poi, se diciamo noi le cose, possono non avere tanto senso. Ma magari se lo dice, se una cosa simile la dice il responsabile dell'ufficio finanziario, forse qualche senso in più può avercela. Il responsabile dell'ufficio finanziario, cioè il dipendente comunale che ha la responsabilità dei conti del Comune, con la relazione di accompagnamento del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale dice che in relazione all'Imo occorre ridurre lo stanziamento e che la modifica legislativa rende praticamente impossibile mantenere lo schema di bilancio già approvato, con gli importi nello stesso inseriti sia nella parte entrata che nelle spese. Esprime poi, in conclusione, parere favorevole sullo schema di bilancio, subordinato però alla realizzazione delle prescrizioni in alto indicate. Cosa vuol dire? Che se non cambiamo lo schema di bilancio, il parere è negativo e quindi il bilancio non è veritiero. Nonostante la nostra denuncia, il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione e quindi ci rendiamo conto di cosa vuol dire, a cosa mi riferisco quando parlo di legittimità degli atti. A questo, per chiudere questo argomento, mi riferisco a una parte già anticipata fino e dico che sono passato sotto silenzio un dato secondo me molto importante. Cioè a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro si dimettono dai loro incarichi le due persone dell'apparato burocratico-amministrativo che rivestono il ruolo più importante nel Comune. Cioè il Segretario Generale è lo stesso, la stessa responsabile del servizio finanziario. Il primo, cioè il Segretario Generale, si dimette ad appena cinque mesi dall'insediamento ufficialmente per andare a ricoprire lo stesso ruolo in un comune più piccolo vicino casa. E questo a me lascia pensare. La seconda, la responsabile del servizio finanziario si dimette dal proprio incarico a un mese dalla pensione. Cioè la responsabile fra il primo gennaio sarebbe dovuta andare in pensione, ebbene un mese prima si dimette dal proprio incarico di capo aria. E se permettete, a me questa cosa fa pensare ancora di più. Però noi abbiamo provato, vi dicevo, un sacco di documenti sull'argomento che sono disponibili a tutti. Passiamo al secondo aspetto, quello che io ho definito della coerenza delle scelte politiche. Perché parlo di coerenza delle scelte politiche? Perché c'è una evidente contraddizione fra le dichiarazioni del sindaco e di due assessori. Dico due assessori perché voi sapete, o meglio, chi segue il Consiglio Comunale sa che dei dodici componenti del gruppo di maggioranza, quelli abilitati a parlare sono tre. Il sindaco e due assessori. Gli altri, il Consiglio Comunale, non li abbiamo quasi mai sentiti. E qui c'è la differenza con il nostro gruppo che non esita a palesare anche qualche posizione leggermente diversa. È chiaro che sulla gestione di fondo della nostra politica siamo d'accordo, ma non ci sono, non mancano i distinguo, come è giusto che sia, perché la dialettica anche interna è fondamentale. Nel gruppo di maggioranza parlano di tre. Ma questo è un altro discorso. E allora, anche qui mi appoggio alle carte. Questa che vedete è la relazione di inizio mandato, datata 26 agosto 2013, mai pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla faccia della trasparenza. Vi diranno che non c'è l'obbligo di pubblicarlo. E anche questo, per certi aspetti, prima era vero. In questo atto si dà, di fatto si ratifica, la relazione Cervellini, si ratificano le sentenze della Corte dei Conti, perché si certifica tutto quello che è stato detto. E si ratifica anche quello che è, quelli che sono gli atti del commissario Preventizio, che ha proposto, ha richiesto l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriannale. Cosa voglio dire? Che qui dentro il segretario generale, con un atto controfirmato al sindaco Calabrese, certifica che l'Opi è in una situazione di predissesto, in una situazione di deficit strutturale. Voi sapete, vorrei evitare di ricordarvi cos'è la procedura di riequilibrio finanziario, è quella procedura che è stata introdotta con una legge nel dicembre del 2012, dopo un mese e mezzo dalle dimissioni dell'amministrazione Lombardo, che consente ai comuni di accedere alla possibilità di rateizzare il pagamento dei propri debiti in dieci anni. Cioè ogni comune può chiedere di pagare i propri debiti nello spazio di dieci anni, mentre prima era obbligato a farlo in massimo tre anni. E ottiene dallo Stato anche un contributo, un fondo, un'anticipazione di cassa che deve essere restituita. Ad aprile del 2012, sempre con il commissario prefettizio, 2013, interviene il decreto salva imprese, cioè lo Stato per consentire il salvataggio delle imprese in difficoltà per ridare slancio all'economia, autorizza i comuni a chiedere un'anticipazione, un prestito per pagare proprio questi debiti nei confronti dei propri fornitori da restituire in venti anni. L'opri ottiene 6 milioni e mezzo di euro che dovrà restituire in venti anni con gli interessi. Quindi di fatto si sostituisce a 3-400 un migliaio di creditori, si sostituisce un creditore solo, che è lo Stato, in cambio di un pagamento rateale che cominceremo a pagare appunto con rate pesanti di centinaia di migliaia di euro dall'anno 2014. Cosa voglio dire con questo? Che il Comune, in virtù di questa situazione difficilissima, precaria, è obbligato a rispettare determinati principi contabili, cioè a ridurre le spese e ad aumentare le entrate. Come una famiglia, una società che deve ripianare dei debiti e come pensate deve cercare di ridurre le spese proprie e di aumentare se può le entrate. La commissaria Refettizia mette in capo tutta una serie di progetti. Qui sto arrivando a spiegarvi la contraddittalità delle scelte. Allora prevede per esempio i posteggi a pagamento. Prevede di recuperare in un anno 50-60 mila euro dei posteggi a pagamento. Pensa al risparmio energetico e quindi dispone che le luci in alcune strade vengano spente a lampioni alterni, quindi per consumare meno energie, per esempio. Pensa di ridurre le spese per il personale, già dall'anno 2013. Pensa a incentivare la lotta all'evasione fiscale, all'evasione tributaria, con quelle squadre che sono arrivate nelle nostre case per la lettura dei contatori per esempio e per gli accertamenti connessi, perché se io vengo a casa tua e verifico che hai il contatore e prendo la lettura, dico all'ufficio poi di verificare se paghi anche i lici, se paghi la tarzio, eccetera. E poi l'altro elemento tra gli atti posti in essere dalla commissaria è la internalizzazione di servizi esterni, cioè servizi che erano appaltati all'esterno vengono internalizzati. Faccio un esempio, la pulizia degli uffici giudiziari del tribunale che veniva affidata ad una cooperativa esterna, la commissaria decide di affidarla ai dipendenti comunali per risparmiare. Cosa succede con le elezioni? Si decide di mantenere queste iniziative? No, è legittimo. Anch'io per esempio, anche noi in campagna elettorale abbiamo detto che per esempio sui posteggi a pagamento non eravamo proprio contenti, convinti e avremmo sicuramente modificato quella disposizione, ma l'avremmo modificata quando si usa dire oggi a saldo zero, cioè era prevista un'entrata di 50.000 euro, io la voglio eliminare e devo trovare un'altra entrata di vali importo, oppure ridurre le spese dello stesso importo. L'amministrazione comunale, abbiamo detto, intende a evocare moltissimi atti della commissaria prefettizia, come effettivamente ha fatto, e decide di adottare i correttivi conseguenziali? No, lascia tutto allo stesso modo. C'era una norma che consentiva la rimodulazione del piano di riequilibrio, che doveva essere fatta entro il 26 ottobre 2013, cioè entro 60 giorni dalla relazione di inizio mandato, questo per consentire appunto ad un'amministrazione subentrata di far valere la propria politica in materia economica e finanziaria, perché poteva non essere d'accordo con le iniziative adottate in precedenza, sarebbe stato legittimo a questo punto rimodulare questo piano sulla base delle nuove emergenze politiche. bene fatto? No, assolutamente. Oggi noi ci troviamo con tutta una serie di atti revocati che prevedevano alcuni tipi di entrata e con un aumento delle spese. La spesa del personale per esempio è aumentata nel 2013, non è diminuita come era previsto. I posseggi al pagamento non sono stati istituiti, eppure era prevista un'entrata per questi. La lotta all'evasione era stata incentivata, era stato previsto che venissero recuperati un determinato importo per questa lotta. Eppure è tutto bloccato, non è successo niente. L'unica attività in materia di lotta all'evasione che è stata posta in essere dall'amministrazione è stata quella di spostare i dipendenti e gli uffici dal terzo piano a pieno terra. Iniziativa lo devo, perché così tutti i cittadini che devono andare a protestare per la Tares, per la Tares o a chiedere chiedere i metti, non devono fare due piani di scale, questa è già una cosa. Pino vi ha già parlato della Tares. Noi abbiamo lottato per ottenere la rateizzazione del tributo e ci siamo riusciti. Avevamo chiesto al Consiglio Comunale di poter portare le rate anche al 2014 in modo da dare un po' di respiro ai cittadini e ci è stato detto che non era possibile. Adesso, pochi giorni fa, la giunta dal cappello al cilindro proprio tira fuori la rateizzazione della Tares fino a maggio, mi pare. Va benissimo. Ma chi volete che pagherà la Tares oggi? Sono quelli, quei quattro, che la pagavano. Se, come dice Pino, non siamo obbligati a pagarla, io generalizzo. Ma chi volete che paghi la Tares quando ci sono emergenze più gravi da affrontare? Se non si adottano le procedure normali per la riscossione. Allora, vorremmo entrare nel dettaglio di tanti atti amministrativi, ma non credo sia questa la sede, anche perché vorremmo lasciare spazio, come avete detto poi agli interventi di tutti. Noi vogliamo, abbiamo avuto questo incontro proprio per ricavare qualche dato che possa essere d'aiuto anche all'attività dell'amministrazione e alla nostra opposizione, alla nostra forma di controllo. Anche perché noi siamo stati costruttivi con emozioni che sono state illustrate dai colleghi, con le iniziative consigliari che abbiamo avuto. ve ne cito una, l'ultima, quella relativa alla variante della 106. Avete visto che è stata aperta la nuova strada, che parte dalla Ionio Tirreno e arriva fino all'Ocri e costringe tutti ad uscire all'Ocri. Tutti si mettono su quella località Canneti, incontrata Canneti e devono scendere poi dalla via provinciale. Un percorso tortuoso. Il movimento che rinasce a cui appartengo già in passato aveva segnalato la necessità, l'opportunità di prevedere una strada alternativa, una soluzione del problema alternativo. Era stata proposta dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Macri, ma senza risultati. Noi riprendendo quella proposta abbiamo chiesto al sindaco, all'amministrazione, all'ANAS, al presidente della regione, al presidente della provincia, di prevedere una soluzione alternativa, che prevedeva appunto la realizzazione di una pratella che dalla strada, oltrepassato il fiume, arrivasse alla vecchia 106, in modo di evitare che arrivassero in città tir, pullman, auto dirette ad Aldore, a Boccalino, etc. E l'amministrazione comunale si è limitata a proporre una soluzione parziale che prevedeva l'allungamento della via Cosmano, della via Matteootti, con la realizzazione di una pratella più corta, che non avrebbe e non risolverebbe il problema. Noi speriamo, non abbiamo più avuto alcune notizie in mezzo, speriamo che sulla nostra proposta si possa lavorare. Anche perché poi avete visto cosa è successo con l'installazione dei semafori, che sono durati un giorno. Installati i semafori, c'è stato un tamponamento a catena con sei vetture immediatamente, che ha dimostrato plasticamente la inefficacia assoluta di quella soluzione. La nostra preoccupazione, guardate, non è sul singolo atto, ma è sull'assenza di un progetto di medio-lungo termine per questa città. Allora, noi siamo felicissimi di L'Ocrio Nice, non ci vorrei ritornare, anche se andrebbero valutati effettivamente i costi, l'esistenza di autorizzazioni, le modalità di gestione dell'evento. Qualcuno potrà dire che la piazza è diventata un luogo privato, gestito da pochi. Possiamo discutere, perché anche questa è una scelta politica e va valutata. Io ve lo dico dopo, il 6 gennaio, e non mi riferisco tanto alle bollette che tutti dobbiamo pagare per le difficoltà e i disagi che tutti avremo, perché ne hanno già parlato poi. Ma io dico, che progetto della città abbiamo? Della città metropolitana, per esempio. Voi sapete che quell'entità che supererà la provincia, verrà eliminata la provincia e noi faremo parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Ma noi che siamo tra i margini oggi, che pure lo avremo nella città metropolitana? L'amministrazione comunale si è posta questo problema. Il sindaco di Marina di Gioiosa, eletto da un mese, un mese e mezzo, ha già parlato e ha già avviato il discorso relativo all'unione di comuni con i comuni della pallata del Torbido, proprio per avere voce in capitolo della città metropolitana, proprio per partecipare attivamente anche alla gestione dei fondi strutturali europei e dei fondi europei in genere, perché con la città metropolitana le competenze passeranno lì. Il sindaco di benestare, di benestare Rocca, ha parlato di unione di comuni, di città della Roclida, proprio per riavere il ruolo di protagonisti che la città si merita, perché tutti i cittadini possano avere rappresentatività, possano essere uniti da... possono avere uniti e possano avere poteri. Di quali occhi questo dialogo, questo dibattito, sia aperto, qual è la posizione dell'amministrazione comunale, a parte il convegno che è stato fatto, molto meno partecipato di questo, devo dire. Ce lo vogliamo porre questo problema? O ci vogliamo limitare al piccolo cabotaggio, alla gestione dell'emergenza? Emergenze, i rifiuti, lo lascio, l'ho lasciato per la fine, non perché sia un argomento poco importante, perché voi sapete in campagna elettorale quanto noi abbiamo battuto su questo, ma perché merita una posizione importante, preminente. Dico, qual è il progetto dell'amministrazione sull'ambiente? Noi lo abbiamo chiesto più volte in Consiglio Comunale, abbiamo presentato diverse interrogazioni, ma non abbiamo mai avuto risposta chiara su questo aspetto fondamentale di fondo. Ma veramente vogliamo pensare che il problema dei rifiuti si risolve raddoppiando i cassonetti che sono per strada? Oppure pensiamo che per risolvere la questione dei rifiuti e non parlo dell'emergenza, della cui risoluzione abbiamo espresso il nostro apprezzamento personale all'assessore che si è impegnato anche in prima persona, lui stesso ha riconosciuto di aver fatto l'operario. Ma non è di questo quello che è bisogno. Noi vogliamo sapere qual è il progetto. Pensiamo che dobbiamo andare a rimorchio della regione per risolvere il problema, cioè dobbiamo aspettarci il piattino portato da Scopelliti o dall'assessore all'ambiente? O vogliamo muoverci anche da soli o con qualche altro comune per risolvere il problema o per affrontarlo il problema, per aprire un dibattito? Quando noi in questo passo avremo il porta a porta? Se non ne parliamo, se non si comincia a parlare? Io non dico che dobbiamo arrivare agli eco negozi che avevamo proposto noi, al pagamento della imposta con la quantessera magnetica in base a quello che andiamo a conferire e mandiamo in discarica con gli sconti per ciò che ricicliamo. Non dico di arrivare a questo, sarebbe forse troppo, ma vogliamo aprire un dibattito su come vogliamo affrontare la questione dei rifiuti? In questa città non se ne parla. E allora io concludo perché voglio lasciare spazio a voi e a chi di voi voglia intervenire. Volevo rinnovare i miei ringraziamenti e voglio approfittare di questo momento per augurare a tutti voi, a tutti noi, soprattutto alla nostra centra di un milione 2013. Grazie. Scusate. Grazie. 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 Grazie.